Cari amici, video brevissimo, penso che lo sappiate già, siamo nella lista dei paesi nemici della Russia, nella lista nera. L'Italia è nella lista nera dei paesi della Russia. Quello che forse non vi è chiaro, o almeno non è chiaro a tutti, è che è l'Italia che tecnicamente, in base al diritto internazionale, ha dichiarato guerra per prima alla Russia. Perché? Perché funziona così. La diplomazia internazionale ha le sue regole da sempre. L'Ucraina e Russia erano in guerra l'un contro l'altra e l'Italia non c'entrava niente. Ricordo che l'Ucraina non è neppure oggi, neppure tuttora membro della Nato. Fornendo armi e soldati, ma fosse anche solo armi, fosse anche solo aiuti economici, a uno dei paesi belligeranti, tecnicamente l'altro, cioè la Russia, è autorizzata a considerarci a tutti gli effetti nemici. Io comunque non vorrei essere soprattutto nei panni di alcuni, fra cui Gentiloni, Renzi, per fare alcuni nomi, due nomi. Ma ci aggiungerei anche Toti, Brunetta, e poi dovrei fare un elenco lunghissimo che riguarda anche virologi, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, a proposito, Palù casualmente oggi ha dichiarato che ci sono nuovi elementi e che il virus, il, il, è probabilmente... Adesso mi tirano giù il video... Non... Non... E quindi se è non... Di conseguenza è... Capito mi avete? Ma poi, ma poi, ma poi siamo andati a dichiarare guerra. Ha un paese che ha una forza militare che con il mignolo della mano sinistra... Sinistra, vi faccio vedere la destra, ma... Perché con la sinistra tengo il telefono, ma... Con il mignolo della mano sinistra ci può schiacciare come e quando vuole, bevendosi la camomilla. Non ci sono limiti, non ci sono limiti, non ci sono limiti, non ci sono limiti. Non vi dico neanche iscrivetevi, eccetera, perché adesso abbiamo tutti ben altri cazzi a cui pensare. Ma non è Putin il cattivone, eh? Non ci sono limiti, 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 non ci sono limiti